venerdì 15 ottobre ore 18 e 30 sala argento stati regionali dell'editoria quale futuro per l'informazione locale è la giornata conclusiva degli stati regionali dell'editoria iniziativa del core con piemonte per mappare lo stato di salute del sistema dell'editoria regionale piemontese verranno presentati i risultati della ricerca del core com per individuare azioni e interventi necessari per rendere innovativo dinamico e vitale il sistema dell'informazione locale interverranno presidente della regione piemonte assessore alla cultura turismo commercio della regione piemonte laura aria componente dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni marianna filandri dell'università di torino bruno geraci comitato regionale dei diritti umani e civili filippo lucci amministratore delegato del consorzio punto europa vice presidente e commissario core con piemonte moderatore presidente core con piemonte domenica 17 ottobre ore 14 sala argento far crescere i diritti nuovi strumenti a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza incontro organizzato dalla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza verranno presentati il bademecum aief formativo informativo per genitori e figli sul tema dei diritti delle persone di minore età e il progetto europeo children digicore a cui partecipa il consiglio regionale che consentirà bambini e ragazzi di segnalare via app le violazioni dei diritti subite con l'attivazione di un contatto diretto con la garante regionale relatori simona donati avvocato esperta in diritto di famiglia e corredatrice vademecum aief antonella ferrero dipartimento giurisprudenza dell'università di torino francesco ronchi amministratore delegato e presidente sinestesia stefano marra carliver segno raggio volando e garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza moderatore luciano moia caporedattore avvenire domenica 17 ottobre ore 18 e 30 sala argento il difensore civico e i garanti al servizio della comunità piemontese un incontro organizzato per far conoscere compiti e funzioni che il difensore civico e i garanti regionali dell'infanzia e adolescenza delle persone sottoposte a misure restrative della libertà personale e per i diritti degli animali svolgono a favore dei cittadini e della comunità del piemonte si tratta di organi di garanzia della regione che operano in autonomia in forma gratuita al servizio dei cittadini e dei loro diritti relatori il difensore civico e i garanti moderatore giulio biino presidente circolo dei lettori